l'abilità dell'uomo. Riusciamo a passare da cose divertentissime a cose di ingegno e raffinate come quella che vi sto per presentare. Avete presente l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci? Secondo il genio di Leonardo, questa è la rappresentazione delle proporzioni fisiche dell'uomo. Questo disegno ci mostra come l'essere umano possa essere l'emblema della proporzione, come la sua figura possa essere armoniosamente collocata in due forme perfette, quella del cerchio che rappresenta l'universo, quella del quadrato che simboleggia la terra. Alla notte dei record vi mostriamo una versione vivente di quest'uomo, Andrea Cerrato. Grazie a tutti. Bravissimo! Bravissimo! Benvenuto Andrea! Complimenti, bravissimo! Abbiamo un microfono... è bellissimo, è bellissimo! È difficile? Ti do il microfono così puoi parlare. È difficile? Buonasera a tutti. È abbastanza. Sì, eh? Diciamo ci vogliono anni di pratica, allenamento, tutti i giorni. Ma come si chiama questo... Allora, scusate il sciatone. In italiano ruota Sir. Sir viene dal nome dell'inventore, che è Daniel Sir. Quanti anni hai? 29. E da quanto tempo, sono otto anni. Molto bello, molto bello! Adesso l'avete visto, ha fatto un'esibizione meravigliosa, adesso vuole battere un record abbastanza complicato. Vero? Sì. Dicci un po'. Il record è per il maggior numero di giri sul pavimento con una ruota Sir. Il record da battere è 45 entro 30 secondi. Cioè, deve fare... Aspetta, no! È tipo il movimento quello della moneta quando cade che fa tra 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 così, no? Esatto. Quindi tu ti devi tenere, devi stare, come dire, in tensione. In tensione, fare il movimento e cercare di non schiacciarmi le mani. E beh, questo certo. E senza fermarti. Senza fermarti. E ne devi fare almeno 45. Più di 45. Più di 45. Più di 45? Sì. 30 secondi. In 30 secondi e ti aggiudichi questo record mondiale. Sì. Ma lo sai che questo record ce l'ha un cinese? Sì. Ma come si chiama il cinese che detiene questo record? Hukizi. Hukizi? Sì. No, dico... Della Cina. È dalla... È dalla Cina. Scusate, è sicuro che si chiama così, eh? Per me inventa, per me inventa. Io mi fido solo di Sofia, scusami. Sofia, what's the real name? Cioè, esatto, the name. Hukizi. Senti che è un'altra cosa. Hukizi. È un'altra cosa. Un'altra cosa. Mi accendo. Altra delicatezza, altra delicatezza, vero? Eh. Per battere questo cinese che si chiama Wukizi, come si chiama, abbiamo il nostro Andrea che ci prova. E quindi, pronto Andrea? Vai! Vediamo cosa combina Andrea. Andrea ha bisogno di un po' di concentrazione prima di iniziare, quindi lo facciamo concentrare. Poi Sofia procederà col countdown. Ready? Three, two, one, go. Non riesco a capire come sia possibile questa cosa. Fifteen seconds. Trenta secondi a disposizione. Parantacinque giri. Five, four, three, two, one, stop. Stop. Andrea, dobbiamo verificare adesso. Bravo Andrea. Dalla VAR verifichiamo. Aspetta che ci mettiamo qua. Guardare tutti i muscoli che lavorano contemporaneamente in tensione per cercare di evitare che questo cerchio possa fermarsi. Molto, molto, molto bravo Andrea. Stanno verificando dalla VAR che devono essere 45 giri. Un'ansia, guarda. Ecco, adesso Sofia ci dirà se hai conquistato questo titolo mondiale, questo record mondiale. Allora il record da battere era 45 giri. In Andrea's attempt, he achieved a total of... E Andrea ha compiuto... Forty... Eight. E ha battuto per tre giri! Andrea! Andrea! 48 giri! Guinness World Records! Il certificato! Complimenti, complimenti. Bravo Andrea! Bravo Andrea! Bravo Andrea! E adesso...